Cristo risorto, buongiorno fratelli e sorelle. In questa nuova giornata chiediamo al Signore che venga con la Sua parola e semini nei nostri cuori una buona notizia, perché questo è ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno. Ecco che oggi il Vangelo che ci viene presentato dalla liturgia è il capitolo 13 del Vangelo di Matteo, dal versetto 36. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I Suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli, spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose, colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole, nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Amen. Ecco questa parabola, lo abbiamo ascoltato in questi giorni, una delle parabole del regno, in particolar modo di questo seme che viene portato dal figlio dell'uomo. Questo seme portato dal seminatore, colui che oggi in ciascuno di noi vuole mettere una novità, vuole mettere il suo Vangelo. Tutti noi siamo chiamati ad essere sia il buon seme, ma soprattutto ad essere un buon campo, perché per essere buon seme e raccogliere frutti dobbiamo essere aperti a questa parola. È molto semplice questa parabola che la possiamo applicare nella nostra vita anche in un altro ambito, ovvero una lotta in cui quotidianamente ci troviamo. Questa lotta tra l'accogliere il seme della parola di Dio e quindi i frutti dello Spirito Santo e il trovare una zizzania che continuamente vuole essere seminata nel campo nostro che è nel nostro cuore. Ecco che la nostra lotta quotidiana e nel nostro campo è quella di riuscire ad accogliere sempre questo seme buono che è la parola di Dio e rifiutare la zizzania. Gesù lo ha detto, io sono venuto a portarvi un detto annuncio, io sono venuto ad annunciarvi ciò che ho udito dal Padre mio che è nei cieli. E per questo dal mattino il nostro cuore sia aperto, accolga la parola nel modo, potremmo dire, bello e perfetto come lo ha fatto Maria, senza limiti, senza riserve, senza filtri. Questa parola accolta ma soprattutto custodita. perché è una cosa importante che impariamo da Gesù e dalle parabole che in questo tempo ci sta dicendo e che ciò che noi ascoltiamo lo dobbiamo custodire. Perché immediatamente viene il diavolo a seminare zizzania e lo fa attraverso tante situazioni, poiché è menzognero il diavolo, viene travestendosi anche d'angelo, viene attraverso situazioni che noi oggettivamente le vediamo e diciamo ma è così, quindi critichiamo, quindi accogliamo la brutta notizia, accogliamo questa pandemia che potrà essere ancora peggiore, dico la scienza lo dice, accogliamo che la malavita è cresciuta, quindi così parlano i media, accogliamo che nella Chiesa c'è sempre più peccato, così dicono i media, accogliamo che nei nostri paesi, nelle nostre città, tante brutte notizie, tanta zizzania, tanta zizzania dal mattino viene. Dovremmo fare proprio come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo VI, indossare l'armatura di Dio con lo scudo della fede per proteggerci da tutti i dardi infuocati, lanciati contro di noi dal maligno. Il maligno vuole abbatterci. E come lo fa? Lo fa nei nostri pensieri, scoraggiandoci, mettendoci delle brutte opinioni sugli altri, su quello che stiamo vivendo, su noi stessi, abbassandoci, ma non parliamo di umiltà, ma parliamo proprio di inferiorità. Non valgo niente, la mia vita non è degna di essere vissuta, nessuno mi ama, nessuno mi capisce, nessuno al mio fianco, neanche Dio mi ama. Tutti i pensieri negativi che spesso li accogliamo e diventano poi sentimenti contro Dio, contro gli altri, contro la nostra stessa vita, famiglia, e diventano azioni. Ecco la zizzania, la zizzania che, seminata non da Dio, ma da un nemico, può produrre brutti frutti, può produrre davvero erbacce. Avete visto qui dietro di me che bei fiori che abbiamo, colorati, però in mezzo, prima di iniziare il video, abbiamo tolto qualche erbaccia che non c'entrava proprio niente, era un po' la zizzania, quindi ho già fatto questo lavoro che dovrà fare Dio alla fine dei tempi. Ebbene, il Signore dice non lasciarti deviare dalla zizzania. Oggi vedrai qualcosa che ti turba, oggi ascolterai qualche parola che ti mette brutti pensieri, ti fa cadere in depressione, in scoraggiamenti. Non accoglierle. E qualsiasi altra situazione che viene per abbatterti. Prendi le parole del Salmo che dice in questo giorno io non accolgo nessuna notizia di sventura, accolgo solo il seme che semina Dio con la Sua parola. E infine, versetto 43 dice Fratelli e sorelle, siamo chiamati a splendere con Dio nella gloria. Siamo chiamati ad essere un riflesso della Sua luce. Tu sei chiamato ad essere come un astro nel cielo, che splende del Suo amore. Quindi oggi chiudi gli occhi di fronte a tutto ciò che è zizzania. Chiudi le orecchie a tutto ciò che non viene da Dio. Apri i tuoi occhi alle meraviglie che il Signore vuole fare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Lascia che la luce di Dio splenda in te. Non solo attendiamo nel Regno dei Cieli, ma qui sulla Terra, che tu possa essere questa luce che dovunque va porta gioia, porta pace, porta l'amore e il Regno di Dio. Amen. Signore Gesù, grazie perché anche oggi mi chiami a seguirti. Oggi sia davvero, Signore, un giorno in cui la tua luce splende nella mia vita. Signore, oggi sia quel giorno in cui tu fai crescere il seme della tua parola e io rifiuto ogni zizzania che il maligno vuole seminare nel mio cuore, nella mia casa, nella mia famiglia e accolgo solo il tuo annuncio, il tuo regno, la tua parola. A te, Signore Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Buona giornata, carissimi fratelli e sorelle, un caro saluto da parte mia e dei nostri consacrati dell'Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Buona giornata. Sarai casa di preghiera è la tua gloria, è la tua gloria è la tua gloria che risplende Signore, è la tua gloria, è la tua gloria è la tua gloria, è la tua gloria che risplende, semmo. La tua gloria che risplende, sono la tua gloria che risplende.